Protestano i residenti di Contrada Tenutella a Marina di Butera. Da diversi giorni infatti la zona è a secco e i disagi per un villaggio vacanza con i suoi 700 ospiti, un B&B e per decine di residenze estive con centinaia di persone sono notevoli e gravi. C'è anche il problema della viabilità con una gara d'appalto per il rifacimento completo della strada principale della illuminazione pubblica, espletata un anno fa, aggiudicata da molti mesi ma ancora ferma. Esasperati i residenti ai nostri microfoni. Il Comune di Butera ha chiamato questa zona Marina di Butera perché prevedeva in quest'area uno sviluppo turistico, ma si può fare sviluppo turistico senza acqua, senza luce e con le strade precarie. L'acqua manca da noi da dieci giorni e le interruzioni proseguono nell'arco di due mesi se ne sono avuti almeno cinque o sei. Chiamare qualcuno è impossibile. L'Enel sta per staccare la luce per tutta la giornata e non si capisce perché tutta la giornata, lo potrebbero fare anche in due giorni, però staccherà la luce. Quindi saremo senza acqua, senza luce e senza strade perché la strada che avrebbero dovuto rifare, l'appalto è stato già bandito, assegnato da un anno ma tutto rimane fermo. Bene i miei figli dopo i bandanni che venivano da fuori, dieci giorni senza lavare la faccia, io mi ho pagato il Santo Petro e gli ho inzaccato un busto d'acqua. E' la verità, la stella mia cugnata mi ha messo un bustino. Con la pasta se la faccio una doccia stella, con la busta da testa. Ah no? Come si può andare lavando così? Allora, non si può. Siamo venuti dalla Francia domenica mattina, siamo arrivati qua inutilmente perché non c'era acqua, non c'era luce, la strada è tutta bucata. Cosa facciamo qua? Dobbiamo tornare da dove siamo venuti. Io gestisco qui un BNB. Giustamente quando il sindaco va in televisione a dire che Butera ha vocazione turistica, a me viene da sorridere, perché qui non si riesce a fare niente, non turismo, ma nemmeno a poterci stare come persona fisica, come famiglia. Manca l'acqua, manca luce, spesso e volentieri, io non ho capito perché. Solo qui la luce, almeno una o due volte al mese, deve essere interrotta per manutenzione. Perché non la definiscono completamente? Non l'ho capito. Diciamo che diventa impossibile così gestire un BNB. abitarci, perciò come dobbiamo fare? Che il sindaco provveda in una maniera definitiva a tutte queste esigenze che abbiamo.